Giussi, che emozione è per te questo riconoscimento importante per un'arte, quella del videoclip, che spesso viene sottovalutata, invece è un modo di fruire la musica molto importante? Io dico che è decisamente molto molto importante e di questo devo ringraziare Fabrizio Maria Cortese che ha realizzato questo video molto bello, anche essenziale, di Il meglio di te, perché rappresenta le immagini del film stesso e perché mi ha dato l'opportunità di scrivere un brano che parla di perdono, che è un messaggio comunque decisamente molto molto importante e vede me al pianoforte in quanto autrice sia nel testo che nella musica del brano stesso e mi ha appassionato leggere appunto la sceneggiatura per ricavarne poi appunto questo risultato. Fabrizio Maria Cortese ha realizzato un bellissimo videoclip e invece per quanto riguarda il progetto Bloom che abbiamo avuto l'opportunità di presentare in anteprima mai più, è un altro brano che ho scritto con i miei compagni di viaggio, appunto Roberta Raschella, Max Zanotti e Alessandro Duccoli ed è una canzone che parla di una vita che bisogna viverla senza rimpianti in quanto siamo tutti in questo passaggio, se così si può dire, breve e non a caso il videoclip che è stato realizzato da Andrea Giacomini, Von Giaco, che ha comunque supportato tutto il progetto Bloom e questo è il quarto videoclip, è riuscito ad esprimere appunto grazie a queste immagini anche in questo caso molto essenziali la presenza di bimbi e anche la nostra presenza di musicisti come se fossimo dei fantasmi della villa, questo fa capire quanto il tempo sia prezioso e quanto sia importante cercare di raggiungere il più possibile i propri scopi, i propri desideri i propri obiettivi e soprattutto di non perdere tempo Giuse, sei una grandissima artista ma che significa per te coniugare musica e cinema? Coniugare musica e cinema, sai, per me è stato un regalo bellissimo e soprattutto un desiderio molto molto importante che avevo nel cassetto e desideravo veramente da tanto tempo che un regista mi chiamasse per scrivere un brano per il suo film e questo è accaduto, infatti non finirò di essere grata a Fabrizio Maria Cortese per aver avuto fiducia in me, ricordo ancora questa bellissima telefonata e devo dire che è un modo per poter unire delle energie appunto mondo della musica, mondo del cinema in questo caso è stato al contrario di come solitamente si lavora la realizzazione dei videoclip perché un regista di solito lavora a un videoclip su un testo invece in questo caso io ho scritto una canzone leggendo una sceneggiatura e vedendo anche anticipatamente anche le immagini, gli attori, il film che mi hanno fatto appassionare a tutta la storia per cui è un bellissimo legame è un po' come quando noi pensiamo è più bello leggere un libro oppure vedere il film del libro stesso o il contrario sono tutte e due due cose decisamente molto molto appassionanti in quanto se non abbiamo mai visto il film, non è mai stato realizzato ma leggiamo il libro stesso ci dà la possibilità di farci un sacco di immagini, delle visioni ci dà tantissime influenze e poi invece quando hai il modo di vedere quello che si realizza dietro la macchina da presa e racconta tutta quella storia devo dire che è parecchio affascinante senti, ormai fai parte dei film com'è il film che mi svolterò? che ti richiedo se ti piacerebbe partecipare in gara a Sanremo con loro oppure da solista? allora, in realtà non è una svolta in realtà ho realizzato diciamo quello che facevo da ragazzina i miei sordi quando ho iniziato ad approcciare con la musica avevo bisogno di scaricare, di sfogare questo lato mio creativo questa modalità di scrittura che è un po' meno pop forse un po' meno sintetico e si affrontano magari degli argomenti un attimino un po' più riflessivi e forse anche per questo magari anche un po' meno radiofonico sotto un certo aspetto forse anche per via dei colori, dei suoni degli arrangiamenti un po' più ricercati e lo desideravo tantissimo e infatti non vuol dire per me abbandonare il mio percorso da solista del quale sono effettivamente parecchio molto grata anche perché l'ho sempre definito un grandissimo valore aggiunto che mi ha dato l'opportunità di poter interpretare anche brani di importanti cantautori che hanno scritto per me però non avevo voglia di lasciare da parte tutto quello che alla fine di viscerale è sempre stato dentro di me e ho pensato siccome diciamo nel mio album ho sempre inserito qualcosa di mio un po' stravagante è rimasto sempre un po' in sordina ho detto ok adesso invece forse è il caso di realizzare una bella band con dei compagni di viaggio meravigliosi appunto come Max, Roberta e Alessandro e insomma per me è un modo per esprimermi anche sotto questo profilo niente Sanremo quindi Sanremo ma guarda devo essere sincera adesso è uscito l'album ma un mio grande sogno era portare mai più a Sanremo ma già dall'anno scorso però alla fine si è optato per far uscire direttamente tutto l'album hangover come si suole fare solitamente nei percorsi alternative rock che non è come il pop che si danno gli assaggini di singoli ma si voleva far capire subito il progetto e allora si è optato per questo tipo di decisione e di percorso chissà in futuro adesso abbiamo esposto questa prima parte creativa e bisogna vedere insomma se è un genere che va bene per quel palco perché ultimamente sento la cassa in quattro sempre e direi che il progetto Bloom è totalmente al di fuori dalla cassa in quattro ma è molto arzigogolato dal punto di vista delle ritmiche grazie 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 grazie